Calano dello 0,2% i prezzi al consumo a Trieste nel mese di settembre di quest'anno rispetto a quello di agosto, ma si registra un rialzo di oltre il 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sono i dati resi noti dall'Ufficio Statistica Comunale. In un mese sono diminuiti i valori relativi a servizi ricettivi e di ristorazione, meno 2,9%, ricreazione, spettacoli e cultura, meno 0,3%, servizi sanitari e spese per la salute, meno 0,2% e bevande alcoliche e tabacchi, meno 0,2%. Prezzi invariati invece per abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili e prodotti alimentari e bevande analcoliche. Registrano un maggiore aumento infine le voci istruzione, più 2,7% e abbigliamento e calzature, più 0,6%. Tendenzialmente l'unica voce con segno meno è abitazione, acqua, energia elettrica, gas, il cui prezzo rispetto all'anno scorso è diminuito del 2,1%. La crescita più alta in un anno invece la registrano i prodotti alimentari e le bevande analcoliche, più 8,6%, servizi ricettivi e di ristorazione, più 7,1%, mobili, articoli e servizi per la casa, più 6,5% e trasporti, più 6,5%. Grazie per la visione!